Il prefetto Vittorio Rizzi Il prefetto Vittorio Rizzi Il prefetto Vittorio Rizzi E consentitemi anche di complimentarmi e ringraziare Raffaella Sasso e Stefano Delfini e le strutture e i loro collaboratori per il lavoro che hanno posto in essere. Oggi abbiamo una collaborazione, un protocollo con Eurispes e in realtà il rapporto con Eurispes risale molto più nel tempo. Me lo ha raccontato il Presidente Fara venendomi a trovare e dandomi il privilegio di riceverlo nel mio ufficio all'inizio del mio mandato come Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza facendomi omaggio di un rapporto di Eurispes commissionato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che è nell'anno 1992, che poi è un anno particolarmente difficile per il nostro Paese, è l'anno delle stragi, è l'anno degli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino e di quella stagione terribile che ha vissuto il nostro Paese. Questo rapporto fotografava allora la realtà e tentava anche di fotografare come quella realtà veniva rappresentata e percepita e quindi stiamo parlando di un tempo in cui questo tipo di approccio culturale era agli albori, credo. Credo che non ci fossero degli elementi di riferimento se non le analisi sociologiche sulle grandi teorie criminologiche del Novecento. Oggi abbiamo ascoltato dalle due voci di Stefano Delfini e Raffaella Sasso la complessità di questi dati, che è complesso anche da riassumere, non è possibile fare delle semplificazioni e quindi il tema della realtà che si presenta in una maniera estremamente variegata e dove abbiamo indici che sono nel breve periodo, cioè ci istituiscono degli scostamenti percentuali modesti e che invece assumono connotazioni diverse nel lungo periodo. Ma anche negli scostamenti di breve periodo ci dicono i colleghi che alcuni reati vengono fotografati in aumento come i reati predatori, come quindi una complessità di fenomeni criminali, furti, l'estorsione, le rapine, la recettazione, i danneggiamenti, le violenze sessuali, altre in diminuzione, l'usura, lo sfruttamento della prostituzione e altre tipologie di reato. Ora, volendo un attimo astrarre e cercare di trovare dei fili conduttori, perché non credo che questa rappresentazione della realtà che fotografa gli indici criminali possa avere un'unica modalità di approccio e di lettura. Il decisore potrà leggerlo sotto vari profili e io cercherò di fare delle semplificazioni per come li ho percepiti io questi dati. E intanto una riflessione nel lungo periodo. E non posso non citare Steven Pinker e il suo Declino della violenza, Un'opera controversa che studia un po' la criminalità nel corso dei millenni, nemmeno dei secoli, dei millenni e che ci restituisce una fotografia di un mondo che va verso un declino della violenza. E Steven Pinker nell'affrontare e nell'analizzare questo declino della violenza si chiede come sia possibile, posto che il cuore e la mente degli uomini sono rimasti gli stessi nel corso dei secoli. E alla fine la chiave di lettura che ne dà è che nelle democrazie occidentali le istanze civilizzatrici, dal principio di legalità alla femminizzazione delle società, i commerci hanno fatto sì che ci sia una prevalenza dei migliori angeli della nostra coscienza, l'empatia, il dialogo, l'ascolto rispetto ai peggiori demoni della nostra natura, la predazione, la violenza e quant'altro. Vero è che questa chiave di lettura è la chiave di lettura di Steven Pinker, ma se prendiamo un fenomeno criminale, un indice tra quelli che ci sono stati offerti sugli omicidi, per esempio, oggi registriamo 300 omicidi, poco più di 300 omicidi come media, poi possiamo avere uno scostamento di qualche unità. E il rapporto di Eurispes del 1992 ci restituisce, nel 1992 e nel rapporto si scrive che la situazione è in netto miglioramento rispetto al passato, ci restituisce una fotografia di oltre 2.000 omicidi nel nostro Paese. Credo che questo dato, che fortunatamente ha raccolto Eurispes nel 1992, analizzandolo, fotografandolo, anche alla luce della normativa dell'epoca, ci restituisca una fotografia di come questo declino della violenza, almeno per alcune tipologie di crimini, sia un dato incontrovertibile. Ci diceva Delfini che se poi lo analizziamo, la situazione, la fotografia Paese rispetto al resto del mondo, abbiamo dati assolutamente confortanti. Ve li voglio dare alcuni riferimenti. Nel 2021 abbiamo preso come anno di riferimento, anche perché qui il tema dell'analisi in questo periodo storico è quello di avere un anno di riferimento, e oggi non possiamo non considerare il periodo della pandemia, quindi normalmente prendiamo il 2019 come anno di riferimento per comprendere il prima e il dopo rispetto a determinati trend. Bene, a Roma nel 2021 abbiamo avuto 26 omicidi, e con un rapporto percentuale dello 0,6 rispetto a 100.000 abitanti, su una popolazione di non Roma capitale, ma di Roma città metropolitana, di 4.231.000 persone. Noi abbiamo questo dato, 26 omicidi, se lo confrontiamo con Washington, una città di 700.000 abitanti, ce ne sono stati 226, a Chicago una città di 2.700.000, ce ne sono stati 797, ma andiamo in città che magari nel nostro immaginario, in quel ranking del percepito che esiste nei reati corruttivi, fa il ranking della misura della corruzione in un determinato paese, pensiamo a città come Anversa, in Belgio ce ne sono stati 250, su una popolazione di un milione e sei. Ecco, vi fotografo questi numeri per dire come sia assolutamente vero quello che diceva Delfini, di come su questo almeno tipologia di reato ci sia un assoluto calo tendenziale. Poi il tema, lo diceva il Presidente Fara, è passare dalla realtà alla rappresentazione, alla percezione. E questo è il tema per il quale dovremmo cercare di trovare delle chiavi di lettura di quello che sta accadendo. Se dovessimo considerare, per esempio, alcune tipologie di reato, alcuni reati che ho vissuto come investigatore, io ho contrastato come investigatore quando sono entrato in amministrazione 35 anni fa, oggi sono archeologia criminale. Penso ai sequestri di persona, che sono un fenomeno che è praticamente scomparso, e persino le rapine negli istituti bancari, che per un lungo periodo hanno costituito una vera e propria emergenza, per cui addirittura bisognava garantire una presenza di forze di polizia nei pressi degli istituti bancari, oggi sono un fenomeno che è andato scomparendo e poi comprenderemo quali sono i fattori che hanno inciso su questo. Quindi il problema, per richiamare un po' le teorie criminologiche sull'appetibilità dei target, ci sono le famose teorie sulle attività rutinarie, perché un target diventa appetibile o meno, fa sì che nel tempo in cui viviamo molti target criminali che solo 20 anni fa o 30 anni fa erano appetibili, oggi per una serie di ragioni, io ne suggerirò alcune, appetibili non sono più. E, ancora una volta, mi ispiro ad Eurispes. L'anno scorso, nel discorso introduttivo, nella presentazione del rapporto annuale di Eurispes, l'affresco che ci venne offerto era quello di cominciare a considerare il secolo nel quale viviamo, questo secolo dove si susseguono una serie di eventi straordinari o che percepiamo come straordinari e l'affresco ci restituì l'immagine di la guerra in corso, la pandemia e ancora prima le primavere arabe e ancora prima il passaggio dall'economia reale all'economia finanziaria e dall'economia finanziaria a quella che è oggi l'economia cosiddetta digitale, la rappresentazione virtuale di valori su piattaforme digitali e come ci sia, quindi, uno scostamento enorme tra quello che è il valore reale e il valore virtuale rispetto a questo tipo di rappresentazione economico-finanziaria. Ebbene, se cominciamo a considerare tutto questo, come suggeriva il relatore, come ordinario, prendiamo atto che tutto questo costituisce il tempo che viviamo e allora in questo tempo in cui viviamo vediamo quali possono essere i fattori da considerare in qualunque analisi criminale. Intanto il fattore progresso, l'essere passati dall'era analogica all'era digitale ha costituito una rivoluzione copernicana sotto il profilo della sicurezza e sotto il profilo delle dinamiche criminali. Oggi abbiamo un diverso modo di commettere crimini e un diverso modo di difenderci dal crimine. Ne parlavano i relatori, c'è un aumento esponenziale dei crimini cosiddetti del cybercrime. Persino i lemmi, il linguaggio che noi utilizziamo ancora non è aggiornato alla realtà che viviamo perché parliamo per esempio di crimini virtuali dove la parola virtuale nel vocabolario italiano a cui noi inevitabilmente facciamo riferimento, se andiamo a vedere il significato della parola virtuale significa ciò che è in potenza. Quindi parliamo di crimini potenziali, in realtà sono crimini reali a tutti gli effetti, tant'è che le vittime sono tragicamente reali. E quindi questo fattore progresso addirittura non ci ha consentito di adeguare il nostro linguaggio a queste nuove dinamiche criminali. E potrei farne tantissimi esempi perché le sfide stanno diventando diventando drammaticamente complesse e se penso che ho vissuto con stupore il passaggio durante la mia carriera dall'era analogica all'era digitale immagino lo stupore che le generazioni digitali avranno quando si passerà dall'era digitale all'era quantistica, quando il bit quantistico determinerà un ulteriore stravolgimento tecnologico con nuovi paradigmi. E quindi chissà quali saranno i fenomeni criminali che ci troveremo ad affrontare. Oggi la sfida in tutti i consessi internazionali tra i vertici delle forze di polizia negli ultimi quattro anni ho partecipato a tutti i vertici europei e internazionali come rappresentante dell'Italia oggi il tema dei tema sono i metadata e sono le piattaforme criptate temi sui quali c'è anomia c'è anomia a livello unionale e c'è anomia a livello nazionale noi non conosciamo per esempio l'accheraggio etico nel nostro ordinamento giuridico e questa anomia è fisiologica quando ci troviamo di fronte a un progresso tecnologico e se il progresso tecnologico è uno degli elementi che sta trasformando i target criminali connesso al progresso tecnologico è il tema della globalizzazione ne abbiamo parlato tante volte con il consigliere Polcini che è un esploratore dei nuovi mondi e dei nuovi scenari criminali nel mondo stiamo programmando e progettando ne abbiamo parlato pochi giorni fa un viaggio alla tripla frontera oltre il 50% del narcotraffico verso l'Unione Europea verso tutti i paesi dell'Unione Europea proviene dalla tripla frontera e quindi è un tema che va affrontato in qualche modo sul quale trovare delle chiavi di cooperazione delle modalità di lavoro in cooperazione multilaterale per poter trovare delle risposte e poi c'è il tema delle dinamiche sociali che è l'altro elemento conduttore e noi abbiamo un diverso sentire rispetto a tantissime condotte criminose che magari non erano nemmeno normate nel passato e lo sono ad oggi ma anche il nostro stesso approccio faccio un esempio il concetto di vittima ne parlava il dottor Delfini la criminologia nel secolo scorso ha sempre e solo guardato alla vittima come target criminale addirittura spersonalizzandola cercando di vedere quanto appetibile potesse essere rispetto all'autore di un reato soltanto in questo secolo sono maturate le cosiddette teorie umanistiche nei confronti della vittima la vittima è diventata portatore di un dolore nel codice di procedura penale quello che noi chiamiamo nuovo codice di procedura penale e io sono entrato in amministrazione quando vigeva il vecchio codice di procedura penale la parola giudice ricorre 1033 volte la parola vittima fino a due anni fa ricorreva una sola volta adesso ricorre tre volte e questo per dare una misura di un sentire diverso oggi le forze di polizia si pongono il problema della vittimizzazione secondaria la direttiva 29 del 2012 recepita nel nostro ordinamento col decreto legislativo 212 del 2015 ha cambiato completamente l'approccio verso la vittima l'articolo 94 del codice di procedura penale ascolto vittima vulnerabile accoglienza invio verso la protezione delle vittime vulnerabili e questo ha rappresentato per esempio una diversa percezione da parte delle vittime e da parte della percezione di sicurezza o di insicurezza io ricordo quando ero giovanissimo feci un viaggio in un paese straniero non è importante quale e vi fu un furto subì un furto che denunciai una banalità durante la mia vacanza veni raggiunto da una telefonata da una psicologa delle forze di polizia che mi chiedeva come mi sentivo questa cosa fu per me sorprendente pensavo di aver combinato io qualcosa per aver ricevuto questa telefonata di attenzione noi abbiamo maturato questo questo diverso approccio vittimologico che secondo me incide molto sulla lettura dei dati che abbiamo oggi perché se io ho una diversa percezione è perché è cambiato l'approccio e nessuno si dimentica come noi lo facciamo sentire si può superare un torto ma non come ci hanno fatto sentire e questo per esempio è un lavoro che le forze di polizia stanno conducendo in quello stesso report di Eurispes mi hanno sorpreso alcuni dati che sono sintomatici di questo diverso approccio culturale quando ho letto i dati sulle violenze sessuali si parlava credo di 687 violenze sessuali nel 1992 il dato dell'anno scorso sono 5800 violenze sessuali quindi o nel corso degli anni siamo diventati un popolo di stupratori oppure evidentemente sono successe altre cose per esempio nel 1992 la violenza sessuale non era un reato contro la persona era un reato contro la morale oggi è una violazione dei diritti umani con la ratifica della convenzione di Istanbul all'epoca il reato di violenza sessuale le condotte le condotte erano rubricate in maniera diversa oggi abbiamo una rubricazione completamente diversa oggi abbiamo nuove fattispecie di reato che sono le figlie della globalizzazione ce ne ha parlato il dottor delfini per esempio come l'induzione la costrizione al matrimonio o il revenge porn tutte fattispecie che non erano normate e quindi questo è anche un po' la fotografia di quello che può essere la diciamo la chiave di lettura parlando sempre rifacendomi al discorso introduttivo di Eurispes dell'anno scorso che per me è stata una fonte inesauribile di ispirazione penso al calo dell'usura oggi ancora oggi quando noi affrontiamo il tema dell'usura lo affrontiamo con molto pudore perché è un reato odioso e quindi avere un atteggiamento semplicistico superficiale verso l'usura è sicuramente sbagliato ma è certamente dal punto di vista dell'appetibilità del target un target meno appetibile perché oggi la grande criminalità traguarda risultati ben più appetibili penso ai non performing loans guardare a quelli che sono i crediti deteriorati la possibilità di entrare nell'economia legale attraverso strumenti che legittimino l'ingresso nell'economia legale per esempio attraverso società finanziarie e non sto parlando di fantasie investigative ma parlo di circostanze che sono state riscontrate in recenti indagini giudiziarie ancora nella fotografia del report si parla per esempio di un aumento dei reati dei più giovani delle gang giovanili anche questo è il diciamo la fotografia di fenomeni sociali in continua evoluzione e persino la criminalità il crimine commesso dalle donne che nella storia criminologica in tutti gli studi che sono stati fatti li hanno sempre quantificati entro un 20% del totale dei crimini oggi da un'analisi che abbiamo fatto al servizio analisi criminale abbiamo scoperto che l'unico trend che supera il 20% sono i crimini informatici guardando al genere e quindi vedete che anche questo cambierà anche quello che era un dato consolidato fino al secolo scorso almeno sulla base degli studi di genere dal punto di vista criminale termino perché questo discorso potrebbe essere ulteriormente sviluppato perché è giusto che sia così eurispe se il servizio analisi criminale hanno dato una fotografia poi su questa fotografia il decisore o l'analista utilizzerà le chiavi di lettura che ritiene più appropriate ma ritengo che la resilienza e la risposta che sia le forze di polizia che in genere la società deve poter sapere esprimere in termini di velocità marco marco sociologo 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 francese guardando la società postindustriale quindi guardando di fatto al secolo scorso parla di sur modernité di una modernità accelerata oggi questo termine questo neologismo non è neanche più sufficiente a dare la misura di questa sur modernité perché siamo in un'epoca in cui come forze di polizia stiamo prendendo consapevolezza del fatto che non è il pesce più grande che mangia il pesce più piccolo ma è il pesce più veloce che mangia quello più lento grazie